Oh bello Quindi questo è Alvaysa Questa è quella merda Capito? Sì, dalla faccia Hai capito? Perché? Perché non va a succedere Arv, non va a succedere Arv, ho bisogno di parlare Sì, hai capito? È importante Hai bisogno di ascoltare questo Sì, prendi il deal O parli di spendere il mio tempo Tutti e due Quello che ho capito No, pute, pute No, non va a succedere mi sembra il gusto vabbè hai ragione eh si si allora li ruba i soldi non si deve fare la compraverita di davanti era una rapina via una trattativa basta poi sparando scusa come c'è anche del cazzo è questo? ti va bene o ti ammazzo? cazzo di scuola allora tieni guarda bella la paesaggio va a far funghi vai mi dicevano due porcini fritti guarda mi sembrava che cazzo del cazzo che ci siamo tornati nel cazzo non mi sembrava che cazzo, ma sicuramente la cazzo sì comunque, andiamo a andare, dovremmo trovare qualcosa sul passaggio ah, ui, morrò per un burger beh, vi farò se cazzo un cazzo di cazzo di cazzo sì, lo faccio si può anche correre ma come scuola per correre perché noi dicevi di dove non si corre se ne trova parecchi andiamo di qua la scampagnata diventata via poi non te l'avevo detto che l'ho preso è vero poi l'ho preso ho preso il road il primo mi avevi fatto vedere anche nell'altro però quell'altro mi deve arrivare perché ancora teori ordini a me mi viene un nerdy nel frattempo benissimo è uno spettacolo ma è consigliato è uno spettacolo piano piano lo sto settando meglio piano piano mi ci prendo la mano però è una bomba ma guarda un po' chi c'è laggiù la vecchina una bella carpa alla griglia accendi il fuoco prendete un pesce ti mando io pesci vieni ma con cosa prendi a mani nude a mano eh vai oh vai ci ho sfluzzo e basta no ma vedrai bisogna fare qualcosa dai costruisci 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 faccio vieni mi fai una sega mi fai una sega ma devo prendere una sega ho costruito una fioccinacchi io quasi c'è nessuno che schizza come si fa a pigliare vabbè io te le spingo da te perché prima va a ceser po se non sa perché te lo spinto basta andare di vicino e pigiare è che poi bisogna fa il basti i lani e batte il ferio ma vedi che mi scappano a me ma se non mi vedo lì che mi spaventi ci posso girare tutta la notte ma cosa ti spavento è è un vero utile a te perché c'era io che li spingevo no ma io non mi fa fa nulla andrea no ma se te cammini e già vengono verso di me devo spiegare tutto le usa e non sai come si pesca vai tu ma se li va vai no le vedi le visto sapevo e fa no ti vede il fuoco è acceso siediti vicino al fuoco poi bisogna trovare la legna metti giù dobbiamo trovare la legna a te e soffio famoscelli a quelli ah li piglio io li piglio io un benicolo allora pigliare tutti che la fai? dovrei? io soffio ti levi da il cazzo ah si scusa io soffio che cazzo ciao leo ciao leo si ma se un peglia il pesce che cazzo ci fai seduto? oh mangiamo va un po' di qui un po' di là non mi piace il pesce 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 si per l'altro cosa ti cazzo? qualcosa che non ho fatto quindi sei inocente no? no non siamo tutti sono inocente anche si si sicuramente ti cazzo cosa per la famiglia? hai una cosa? si una mamma spero non mi piace che non ti vede a trovare mi anche e un figlio ed è discreta la mia eh si mi f***o mi piace il ragazzo si ho sentito perché ha visto il naso e pensava mi dò invece niente no andiamo dopo insieme guarda Vincent mi piace il ragazzo mi piace il ragazzo mi piace il ragazzo con un lavoro di banca un giorno mio frate prende un nuovo cliente l'arbe mi dò mi dò l'arbe si ecco l'arbe l'arbe continuò con più e più di e non poteva l'arbe era troppo rischio quindi ho detto che voglio che mi ha chiesto ha ucciso a mio frate come una warncia dopo l'arbe lo scopo ho pensato per lo ucciso lo ucciso ma il figlio ha chiesto mi è è ero per il ucciso di mio frate ma però sono simpatico capito mi avevo fatto brutto ma simpatico ma però sono simpatico capito l'avevo fatto brutto ma simpatico ma scusate che l'arbe 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 il fuoco l'arbe l'arbe non che sono l'arbe il è l'arbe è l'arbe Tu sei un po' più forte. Mi piacerebbe essere più forte che un canone troppo. Grazie per il complimento. Tu sei benvenuto. Tu sai cosa? Ma... Tu sei in realtà il primo che ha lavorato in un banco che ho parlato senza un uomo nella mia mano. Guarda quello. Tu stai facendo progresso, Leo. C'è una casa là, proviamo a vedere. Ma così? Se entra così? Sì. Tu sei una stella. Chi mi è? Ti pareva subito su di noi. E' lui, sa? E' Albie. Bello. E' subito. Stanno aspettando. Sì. Ti invitano a cena. Stanno aspettando. Sì. 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 Cosa volete? Cosa volete? Cosa volete? Cosa volete? Dai. Chiunque ci sia rimasto. Chiunque ci sia voti. Dai. Quindi Franci vota. Gli arriverà un po' di ritardo. Quindi o si picchiano o si fanno andare via. Te hai scrupoli a picchi a due vecchi o? No, no. Vai, soggiungiamo la coppa. La coppia. La coppa? Alziamo la coppa, vai. Sì. Ok, allora. La porta frutta deve essere dall'altra parte. Sì, andiamo. Vieni. Sì. 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 Pochi qui qui. No! Vedi! Vedo, vedi. Vedi i filmy Vedi dove? Se dentro andava. Non houto versi. Sì. Admm Taylor dicevi vero. Vedi? Sono sperimenti. Vedi i filmy. Bi fa entrare vado. Se lì miما ي spanora di là. Vedi? Vedi? va bene? sì, vai! vado? poi te li attacchi, eh? cosa c'è? c'è qualcuno all'interno? oh no, devo ringraziare la polizia oh no! non mi ha visto e ora? mi nascondo bravo! un criminale? oh no! hai visto? hai fatto questo? cavalli, cavalli non ci saranno, ho promesso ci saranno qui in tempo damn criminali boia! murati vivi se facciamo male morite uguali non ci saranno non ci saranno non ci saranno guardate mia figlia sempre dice che non mi sembra bene in fatti il capello ha 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 è il suo, te cambiati cambiati dunque dobbiamo un po' di musica vai non ci saranno non ci saranno non ci saranno non ci saranno nooo ma guardate ma guardate i vestiti saranno in camera si ma non questa ti va vieni 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 ho fatto il cappello non ho mai stato stato un hatman no no il mio non lo vuole dove sei tu? mi sto chiuso dentro l'almadio qua dove cazzo sei? nella stanza ma quale? io bestia questa qui cosa c'è? hey mia mamma ha una di queste oh andiamo una coglione mi piaceva ti sei vestito da vecchio proprio eh beh una forte andare nel cross vieni il furgone nel garage sarà dove hai il furgone? il garage è una fattoria eh li vengono i cavalli via che ci siamo allora ricerca qui ci sono i cavalli te vai dov'è il cazzo è il furgone il furgone il furgone sarà il furgone c'è 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 il furgone le galline le galline il furgone sarà sulla strada scusat se vanno a levare la 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 si può andare dà ma quella ha visto un furgone eh forse è qui Mi va, dove sei? Chi c'è L2, così mi vedi. Guarda come sei avanti. Chi c'è l'ho, si è la una piota. Non ti c'è l'ho, non ti c'è l'ho. Ma, non ti c'è l'ho! È così, c'è l'ho, non ti c'è l'ho. Non ti c'è l'ho, non c'è l'ho. E l'ho a chockei e l'ho a chockei qua non tempo. Ok, ok. Vi occorrerà una nua tigra. Vi vediamo qua per shooti che cosa troviamo. una ruota nuova dove sarà la riaccroce hey Vincent l'ha visto lui non l'ho vista io dove cazzo l'ha vista la ruota laggiù le vedi sono anche illuminate figgimi ma cosa fai è te ma in modo più agile e piacevole per arrivare di là o c'era te pezza che la fa la vecchina questi due vecchi vanno cosa fai vai e ora io sto di qua tirala vai ritirateli vuol dire che c'è qualcosa di qui che possiamo usare puro papà da solo ah vi dà fatto aspetta che mi ci rimetti le mani se notte ok now we just need to screw in the studs we need to attach the wheel first divertente eh ok Ok, finito. Ora abbiamo bisogno di prendere e prendere il supporto. Non funzionerà, abbiamo bisogno di prendere il carro prima. Ok, ora possiamo prendere almeno. Vuoi far guidare l'altra volta? No, io non l'ho scelto, quindi... Ma spieghi, eh? Eeeh... 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 Eh... Eeeh... Eeeh... Lo riparo! Allora il tank sembra completamente treno! Allora, la benzina! Questi cabbeti di jumper possono riferiranno la batteria. Voi, rischi, scuola abbiamo preso la veglia. Allora... Qui viene da prendere la benzina! E' la prendere! E' la prendere! Questa è un benzinaio, eh? Per prendere la benzina... lancia si aspetta aspetta eccolo oh eh vabbè via cosa vuoi? cosa lo fa? siamo? cosa? metti in moto no prima vi sapeva benzina ma è disturbato per nulla gas canister mi credo che ancora ha gas ti fatti pure i cazzi tuoi mentre risolvo tutti i problemi non ti preoccupare oh ma che palle sono appena uscito nel prigione mi fai un po' di venti non è vero dubita a lavorare allora stavo in prigione no no è pieno è pieno è pieno Ma come l'ha fatto uscire? Dai, come l'ha fatto? È impossibile! Assolutamente, grazie! Sono le polizze ancora? Sì, saranno qui ogni minuto! Ok, andrò a prenderci loro! No, solo stai qui! È tutto bene, aspettiamo qui, sarò bene! Porca troia, questo ci fa il culo! Oh, sì! Sì, anche questo è andato! Ciao! 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 Ciao!